Bene, buongiorno a tutti ragazzi, questa è la lezione numero 42, siamo ormai sgoccioli del corso e oggi trattiamo l'ultima struttura dati che affronteremo in questo corso, poi continueremo il discorso sui grafici che abbiamo lasciato in sospeso, questa struttura si chiama KIP, ovvero sono degli alberi, quindi torniamo un po' indietro sugli alberi, che servono per effettuare operazioni di estrazione del minimo e del massimo. Quindi noi conosciamo gli alberi binari di ricerca e se vi ricordate il loro scopo è quello di cercare un elemento generico, quindi sì, hanno delle strategie ottimali per la ricerca, ma comunque se dovessimo cercare il minimo e il massimo di quell'albero, vi ricordate, dovremmo comunque attraversare l'albero in altezza lungo il ramo sinistro se è il min, lungo il ramo destro se è il max. Questo significa richiedere una complessità di almeno logaritmo in base 2dn, perché quella è l'altezza dell'albero se è bilanciato. Ora ci sono alcuni problemi informatici, problemi di ordinamento, per esempio la selezione del minimo, il selection sort, ve lo ricordate, problemi di ottimizzazione, cioè i sui grafi, ovvero quello che stiamo appunto facendo con Dijkstra, e in generale gestione di code di priorità, in cui è necessario avere in O di 1, con il tempo costante, estrarre l'elemento più piccolo, min o max, dipende insomma quello che vogliamo fare. Per esempio, le code di priorità sono importantissime, sono l'argomento di oggi, le useremo sia per diminuire la complessità di Dijkstra, perché quella che abbiamo in questo momento non è soddisfacente, è una complessità computazionale praticamente come a Bergman Ford, e si usano anche le code di priorità in altri contesti informatici. In questo momento il nostro sistema operativo, il mio e il vostro, su quale siete connessi, anche se siete connessi da smartphone, c'è un sistema operativo che usa una code con priorità, tipicamente si chiama code round robin, sta alla base di tutti i sistemi operativi e serve per dare la CPU, assegnare la CPU ai processi che la richiedono secondo un criterio di priorità. Quindi chiaramente ci saranno processi del kernel che avranno una priorità maggiore e ci saranno processi utente che magari avranno una priorità minore, quindi a seconda di quello che è il caso. Quindi, ripeto, l'obiettivo è quello di estrarre il minimo o il massimo da una struttura dati in un tempo, possibilmente, o di uno. Quindi gli alberi binari di ricerca non vanno bene. Pertanto, introduciamo una nuova struttura dati, che sempre albero è, per un albero speciale, che chiamiamo heap, binario perché è un albero binario, è un albero in cui vale la proprietà di heap, appunto. Qual è la proprietà di heap? Allora, se è max, perché vogliamo estrarre il max, varrà una certa proprietà. Se è min, significherà che vogliamo estrarre il min. Quindi, ragazzi, sono due, in realtà, famiglie di heap, che però sono praticamente duali. Quindi, una volta che abbiamo definito il max, automaticamente definiamo anche il min. Quindi, il max heap è un albero completo, attenzione a questa parola, che nelle definizioni a suo tempo dell'albero significava che è un albero a cui mancano solo le foglie in basso a destra. Cioè, un albero completo è un albero in cui tutte le foglie sono compattate a sinistra. Vedete, gli manca solo questa a destra e tutte le altre. Quindi deve essere un albero completo in cui deve valere una proprietà tale che la chiave del padre, di ciascun nodo, è maggiore della chiave di ciascun nodo o figlio, quindi, praticamente. Ovvero, detto in altri termini, deve valere ricossevamente la proprietà che, dato un nodo, suo padre ha una chiave più grande. Qualunque nodo. Quindi, di conseguenza, un corollario di questa proprietà è che il massimo è contenuto nella radice dell'albero che stiamo considerando. Perché? Perché se il padre, se mio padre ha una chiave più grande, ma a sua volta il padre di mio padre avrà una chiave più grande di suo padre, di suo figlio, scusate, quindi questa proprietà, insomma, propagandola verso l'alto, di conseguenza è facile dimostrare anche intuitivamente, ragazzi, che il massimo è contenuto nella radice. Quindi, l'IP è una struttura che mette al suo vertice, alla sua radice, l'elemento di chiave massima. Questo vale per tutti i nodi, quindi questo è il massimo del suo albero, questo è il massimo del suo albero, questo è il massimo del suo e così via per ogni nodo. Quindi, attenzione a non confondere l'IP con l'albero binario di ricerca. Non esiste più un concetto di sinistro-destro. Un elemento più piccolo della radice si potrebbe trovare benissimo a sinistra o a destra. Non c'è una regola, l'importante però è che sia sotto la radice, se questo è un max-IP. Se fosse un min-IP sarebbe tutto il contrario. Quindi, per adesso, diciamo max-IP, però, ripeto, tutto quello che diciamo si può generalizzare nel caso di min-IP. Quindi, il massimo è contenuto nella radice, l'altezza è il logaritmo di base di 2dn perché è un albero completo. Completo significa che gli mancano solo le foglie in basso a destra per essere perfetto. Pertanto, un albero quasi perfetto, ve l'ho dimostrato a suo tempo, ha un'altezza logaritmo in base di 2dn. Quindi, non c'è bisogno qua di fare discorsi di tipo, bilanciamo l'albero, altrimenti non è in altezza. No, questo per costruzione. Un-IP è un albero completo, sempre completo dovrà essere mantenuto, pertanto avrà un'altezza logaritmo in base di 2dn. Altri corollari, vabbè, chiaramente i corollari sono che il padre, essendo il più grande del suo albero, è anche ovviamente più grande delle sue chiavi sinistre e destre. Ma questo è un corollario abbastanza banale. Ripeto, max-IP, il massimo sta nella radice di ciascun sotto albero. Quindi, non solo la radice di tutto l'albero, ma anche ogni radice di ogni altro sotto albero presente nel nostro albero binario completo. Tipicamente, un-IP, anzi quasi sempre un-IP, è rappresentato non tramite una struttura collegata, quindi come magari abbiamo accennato negli alberi binari, era una struttura in cui avevo il puntatore, al nodo sinistro, al nodo a sotto albero sinistro, al sotto albero destro, no. I-IP usano una rappresentazione con un vettore posizionale. Perché? Perché il vettore posizionale ha una proprietà tale che è un vettore. I vettori crescono verso destra, non possono crescere, non possiamo, sì, potremmo, però non si fa tipicamente, per motivi di complessità, un inserimento nel mezzo del vettore. Perché altrimenti bisognerebbe spostare verso destra tutti gli altri elementi. Il vettore posizionale, in effetti, per come è fatto, pretende che non si possano inserire elementi nel mezzo, altrimenti si romperebbe la regola di posizionamento. Perciò l'unico momento, l'unico posto dove poter inserire un nodo in un vettore posizionale è la coda, è il pushback. Quindi il vettore posizionale si presta benissimo a rappresentare un Ip, perché appunto un Ip, quando facciamo un inserimento, dovendo essere un albero completo, non possiamo fare altro che effettuare l'inserimento come prima foglia in basso a destra disponibile. Questa prima foglia, come corollario delle regole di posizionamento che abbiamo già discorso a suo tempo, ha come posizione nel vettore posizionale il postultimo elemento, quindi basta fare un pushback. Quindi l'inserimento si fa sempre in coda con i pushback. Sempre per costruzione posizionale, la testa, cioè la radice, sta sempre nel primo elemento del vettore posizionale, quindi l'estrazione del massimo si fa sempre in testa. Quindi il massimo sta in testa, o di uno, l'inserimento si fa in coda, o di uno, e quindi già questo ci fa capire che il vettore posizionale è una struttura assolutamente adatta per rappresentare il nostro Ip. Però, 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 abbiamo detto che sì, faccio un inserimento in coda, faccio un inserimento in testa, ma ti dice che l'elemento che io vado ad inserire, per esempio, inserisco l'elemento 40, lo inserisco come primo figlio di 25. Ora però non è più vero che questo è un Ip, perché oltre a essere un albero completo, deve valere la proprietà che la radice di ogni sotto albero è l'elemento più grande. Pertanto se andasse a inserire 40 come figlio sinistro di 25, non ci sarebbe più questa proprietà. Pertanto servono delle procedure ausiliarie che verranno invocate dopo operazioni di inserimento, di estrazione, di eliminazione, tutte operazioni che modificano l'Ip. Le operazioni che modificano l'Ip potrebbero rompere le proprietà di ordinamento dell'Ip. Quindi per ristrutturare queste proprietà, per restaurarle, si fa ricorso a delle procedure ausiliarie che si chiamano muovi alto e muovi in basso. Muovi alto si invoca quando l'elemento che abbiamo appena inserito, per esempio, o che ci ritroviamo per qualche motivo, è un elemento che non sta dove dove stare. Cioè è un elemento troppo grande, quindi dobbiamo farlo risalire, è un elemento più grande del padre. Pertanto, essendo più grande del padre, l'unica direzione per spostare questo elemento è verso l'alto. È come una bolla, deve risalire perché è più grande. Muovi in basso è il duale, cioè l'elemento è più piccolo dei figli, quindi non può stare in alto se questo è un max-hip, ma deve scendere verso il basso. E allora abbiamo le procedure muovi alto, muovi in basso, per spingere rispettivamente verso l'alto gli elementi grandi e verso il basso gli elementi più piccoli. Allora, il muovi alto, essendoci un solo padre, è abbastanza banale. Cioè io ho un elemento che è più grande del padre e allora scambialo, niente da fare. Però scambialo iterativamente perché quando lo scambio potrebbe comunque ancora essere più grande dell'altro padre. E allora la risalita è semplicemente scambia figlio con padre, fino a che continua a fare questo scambio, fino a che la chiave del nodo è più grande della chiave del padre. Questo rompe la proprietà di hip, quindi bisogna farlo risalire. Quando questo ciclo termina, può terminare per due motivi. O perché finalmente ci siamo messi in una posizione in cui siamo più piccoli del padre e quindi ci fermiamo, oppure abbiamo raggiunto la radice e vabbè, abbiamo raggiunto la radice, significa che probabilmente eravamo all'elemento massimo. Quindi è giusto che abbiamo raggiunto la radice. Vediamo un esempio di muovi alto. Quindi abbiamo per qualche motivo, magari abbiamo inserito 18, ecco, quindi non c'era 18, l'abbiamo inserito come prima foglia in basso a destra, quindi questa è la prima foglia libera. Controlliamo che non sia più grande del padre, lo è, quindi dobbiamo evocare la procedura muovi alto. Scambiamo, primo scambio, di nuovo controlliamo, scambiamo perché è più grande, di nuovo controlliamo e di nuovo scambiamo perché è più grande e a questo punto l'elemento è risalito fino alla radice. Non è detto che risalga fino alla radice, in questo caso è risalito fino alla radice. Il muovi basso, invece, è il duale, cioè dobbiamo decidere dove andare. Stavolta non abbiamo un padre come prima, abbiamo due figli, il pebbinario. Quindi andiamo a sinistra o andiamo a destra. Ora, siccome l'elemento che stiamo spingendo verso il basso è un elemento che è piccolo, beh, vogliamo spingerlo verso il nodo con chiave massima, così siamo sicuri di massimizzare questa probabilità. quindi scegliamo di tutti i figli, due ce ne sono in realtà nel lippe binario, scegliamo il nodo, il figlio con chiave massima e ci chiediamo il nodo nostro che vogliamo spingere verso il basso, verso il basso, è o non è più piccolo, dobbiamo spingerlo verso il basso, quindi ci chiediamo è più piccolo del nodo massimo figlio? Beh, se è più piccolo noi lo scambiamo, altrimenti no, significa che abbiamo trovato un punto in cui fermarci. Cioè, se il nostro elemento è più grande, quindi non è più piccolo, del più grande dei figli, significa che è giusto la posizione in cui si trova, quindi non dobbiamo operare più scambi. Quindi, ripeto, questo metodo, il duale di questo, semplicemente si va a confrontare non con il padre, ma con il più grande dei figli e se è più piccolo si scambia, se è più grande rimane lì. Quindi, vediamo adesso un esempio, per qualche motivo ci ritroviamo, poi capiremo perché ci troviamo queste situazioni, ci ritroviamo un 4 in una posizione ovviamente non consona, lo confrontiamo e ovviamente ci accorgiamo che il più grande dei figli, cioè 16, lui è più piccolo, quindi deve essere scambiato. Si fa lo scambio, il più grande dei figli è 14, è ancora più piccolo, si fa lo scambio, il più grande dei figli 8 è ancora più piccolo, quindi si fa lo scambio a questo punto. Così come prima ci fermavamo se raggiungevamo la radice, adesso ci fermiamo perché abbiamo raggiunto una foglia. Perché abbiamo invocato, perché abbiamo spiegato queste procedure di ristrutturazione? Ve lo dicevo prima, perché durante l'inserimento e l'estrazione del massimo, non l'eliminazione perché tipicamente in un IP si fa l'estrazione dell'elemento, è come una coda, ci serve sapere non un qualunque elemento da eliminare, da estrarre, ma l'elemento di chiave massima o minima. Quindi le operazioni fondamentali di un IP sono l'inserimento e l'estrazione del massimo. L'inserimento, ve l'ho detto prima, si inserisce all'elemento come foglia più a destra nell'ultimo livello. Questo perché è l'unico modo per fare i pushback appunto nel vettore posizionale. Però, avendolo inserito come foglia più a destra, non è detto che la posizione dell'elemento sia quella giusta. Pertanto, essendo una foglia, l'unica procedura che possiamo invocare è muovi alto. Muovi alto automaticamente capirà dove fermarsi e quindi dove inserire alla fine l'elemento. La complessità è sempre logaritmo in base di 2dn perché per inserirlo in coda è 1, pushback è 1. Per fare i muovi alto devo attraversare l'elemento in altezza. In altezza, nel caso peggiore, è logaritmo in base di 2dn, quindi questa è la complessità. L'estrazione del massimo invece, e questo ci fa capire come mai ci siamo trovati un elemento così piccolo in una radice di un max-hip, perché l'estrazione del massimo ti fa in maniera molto pigra. Non solo l'estrazione del massimo, ma in generale qualunque altra estrazione di un elemento, di eliminazione. Si copia nella radice, si fa uno scambio, la chiave più a destra del nostro hip. Quindi praticamente l'elemento che noi vogliamo estrarre, in questo caso la radice in generale qualunque altro elemento, si fa uno scambio con la foglia più a destra. Ora, adesso che l'elemento che vogliamo eliminare, quindi per esempio la radice, il massimo, o un altro elemento, si trova nella foglia più a destra, l'eliminazione si fa con un banale pop-back nel vettore, se fosse un vector, o di uno. Però l'elemento che gli avevamo scambiato, adesso era un elemento che stava in basso a destra, quindi era un elemento piccolo, essendo piccolo probabilmente deve scendere. Pertanto invochiamo la procedura a muovi basso per farlo scendere nel punto corretto. Questa procedura nel caso peggiore attraversa tutto l'albero in altezza, quindi nel caso peggiore logaritmo in base a 2DN e la sua complessità. Facciamo altri esempi, anche aiutandomi con voi. Chi di voi si sente di fare l'inserimento del nodo 22? Dove fare l'inserimento, come lo fa e come finisce questo hip? Bisogna inserire 22. Chi se la sente? Dai, ci siete? Dai, cimentatevi, sono domande che posso fare all'esame, quindi chi si cimenta ha il vantaggio che già ha fatto l'esame in pratica. Poi sarà solo un ripasso. Forza, dai, non abbiate paura. Professore, mi scusi, ho una domanda. Sì. Ma il nodo, noi possiamo inserirlo in qualsiasi ramo che non è alto quanto l'albero? L'inserimento va fatto giocoforza nella prima foglia libera in basso a destra, quindi in questo caso è il figlio sinistro di 3. Lì si fa l'inserimento, poi però non finisce là la storia, bisogna fare delle cose per ripristinare lì. Però l'inserimento devi immaginarlo come un vettore. L'inserimento si può fare solo con pushback, non ci sta un altro metodo, insert nel mezzo. Pushback. Quindi pushback farà sì che il 22 verrà messo a sinistra di 3. Poi però che succede? Poi si deve scambiare con il 3? Si invoca la procedura muovi alto, che fa lo scambio con il 3. Il 22 adesso sta al posto del 3 e il 3 sta a sinistra di 22. Poi? Poi si scambia di nuovo con il 19 perché è ancora più... Ok, adesso qua c'è il 22 e qua c'è il 19 e qua c'è il 3 e poi... E poi si ferma. E poi si ferma perché il padre è più grande, quindi basta. Altro esempio. Questo è un mini-hip, giusto per avere un po' più di elasticità mentale. Quindi stavolta è tutto il duale di quello che dicevamo prima. Però rimangono le stesse procedure, muovi alto, muovi basso. Voglio inserire... Voglio inserire 18. Dove lo inserisco? Anche magari sempre lei, così facciamo prima. Se no aspettiamo troppo. Sempre il nodo sinistro di 19? Sempre quello, è proprio... Sì. In questo caso si scambia solo con 19, in quanto è più grande solo 19. Due è più piccolo e resta su 19. Si scambia con 19 perché il 18 è più piccolo e basta perché adesso si trova un padre che è più piccolo, quindi fine, un solo scambio, benissimo. Ritorniamo nel nostro max-hip, adesso facciamo l'estrazione di 100. Come lo estraggo? 100? È il massimo, quindi devo estrazione del nodo radice. Eh, devo portarlo in basso? Al posto dell'ultima foglia a destra. Quindi si scambia con 19. Una volta che 100 sta qui, lo elimino con un pop-back, quindi facilissimo. Adesso 7 sta qui, quindi? 7 sta lì, quindi si deve fare muovi basso. Dove vado? Sinistra o destra? Vado a sinistra. Questo è un max-hip, sì, in realtà è vero, lei anche andando a sinistra riuscirà comunque, cioè, la procedura specifica che bisogna andare nel fio è più grande, quindi dovremmo andare a destra. Però è vero, anche se va a sinistra e poi mette il, che cos'è, 7, lo metterà probabilmente a destra di 17, quindi si troverà. Però la procedura prevede di selezionare il figlio più grande, quindi 36, e andare in quella parte del libro. Ok, allora porto su 36? Anzi no, aspetta, no, 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 mi piace, è giusto che proviamo a non fare come dice la procedura e vediamo qual è il problema. Mi ha detto di andare a pari. Troviamo 19 come parte più alta dell'albero che si ritroverà a destra un figlio che è più grande. Esattamente, e non posso fare più niente, ma la procedura l'ho già fatta una volta, se io qua ci metto 7, 7 lo scambio con 19, 19 una volta che vanno nella radice è finita, perché adesso è il 7 che io continuo a scambiare con i suoi figli, ma il 19 ormai l'ho messo lì e non lo tocco più purtroppo. Quindi ecco perché bisogna scegliere il figlio di chiave massima, perché è quello l'unico a poter occupare il posto della radice di questo sottualbero. Quindi scambio 7 con 36, 36 vale la radice, 7 va qui, poi 7 con 25, così adesso sta nel posto giusto. Se invece l'avessi scambiato con 1, banalmente 1 non era giusto perché è più piccolo di 25. Bene, va bene. Ok, quindi vedete, insomma, a mio giudizio sono più facili degli alberi binari, che sono l'eliminazione di un nodo in un albero binario di ricerca, abbiamo impiegato un'ora solo per sperare di capirlo. Nel caso di un heap l'eliminazione è praticamente banale, cioè si fa uno scambio con la foglia più in basso a destra, si elimina quindi adesso la foglia più in basso a destra, perché contiene il nodo da eliminare, con un pop back, e l'elemento che era stato scambiato si deve fare scendere se è un min heap, risalire se è un max heap, perché dipende dalla procedura muovi alto, muovi basso, che si invoca a seconda che sia un min o max heap. In sostanza i piccoli devono scendere, i grandi devono salire. Quindi se è un max heap si fa risalire il grande, se è un min heap si fa scendere il grande. Tutto duale. Ok, continuando con gli heap, c'è una procedura che si usa perché a volte è necessario, vedremo un esempio in seguito, che serve per costruire un heap. Cioè, dato un array, un vector, come vi pare, di dimensione n contenente elementi a caso, come si fa a trasformarlo in un vettore posizionale che rappresenta un heap binario, min o max, a seconda delle esigenze. Questa procedura si chiama IPFI ed è una procedura divide-ettimpera, quindi l'ennesimo esempio di divide-ettimpera. Come funziona questa procedura? Come tutte le divide-ettimpera, è pigra, procrastina, sembra che non risolva niente, e magicamente alla fine funziona. Perché? Allora, divide, alla fine ci siamo capiti, bisogna sempre dividere il dato in sottoproblemi. Ora, se siamo in un heap binario, in quanti sottoproblemi potremo mai dividere? In due, perché essendo binario, dividiamo l'albero in due sottoalberi, sinistro e destro. Quindi dobbiamo trasformare in un heap un array che in quel momento non è un heap. E vabbè, se è vuoto, vabbè, questo lo facciamo dopo, perché questo sarebbe praticamente l'impera. Vedremo perché questo è l'impera. Quindi dividi, e vabbè, voglio trasformare un array in un heap, trasformo prima la parte sinistra e poi la parte destra. Quindi molto, molto, molto pigro. Come faccio a trasformare un array in un heap? Tramite l'impera. Come faccio? Quando è vuoto, ecco, è un heap. Vedete come davvero è para, puntini puntini, dividete in un heap. Volevi trasformare un array in un heap. E vabbè, dividilo in due ricostivamente, poi quando hai un array vuoto, ecco, quello è un heap. Te l'ho costruito. Perché? È vero, è un heap. Un heap è un albero. Un albero vuoto è ancora un albero. E rispetto alle proprietà di heap è completo? Certo, è vuoto. Le proprietà di ordinamento le rispetta? Ma certo, non contiene niente. Quindi ovviamente rispetta le proprietà di ordinamento. E quindi sì, quello è un heap. Eccolo qua. Te l'ho fatto. Volevi un heap? Te l'ho dato. Cos'è chi è quindi che fa il lavoro? È il combina. Cioè il combina deve prendere a sinistra un heap, a destra un heap, che inizialmente magari sono anche due alberi vuoti, poi magari contengono un elemento e un elemento, e li deve fondere. Come fondere? Beh, noi sappiamo in realtà come fondere due alberi che sono già heap. e lì fonde magari con... Scegli una delle due radici, adesso non è importante cosa fonde con cosa. Il problema è che poi quella radice che sta scegliendo, quindi la scelta della radice è arbitraria, però qualunque essa sia, questa radice potrebbe non trovarsi nel punto esatto. quindi invochiamo il movibasso e la facciamo scendere nel punto corretto. Dopo quindi movibasso sulla radice del nostro heap, quindi abbiamo detto, abbiamo il nodo radice, abbiamo la sinistra e abbiamo la destra, a sinistra e a destra sono già degli heap, quindi l'unico nodo che non si trova probabilmente lì dove deve stare è la radice di questo heap. Allora invochiamo un movibasso su questa radice che quindi verrà scambiata nei modi giusti per formare un heap. L'equazione di ricorrenza di questa cosa è O di 1 più 2 volte T di n mezzi, perché ogni volta stiamo dimezzando, più il tempo per fare movibasso, movibasso e logaritmo in base a 2 di n. Applicando il teorema massa, che adesso non abbiamo tempo di applicarlo, però questa equazione di ricorrenza ci dà il caso che ci porta alla complessità teta di n. Quindi per trasformare un qualunque array non ordinato senza nessuna relazione di ordinamento in un heap è sufficiente O di n, teta di n, quindi lineare. Praticamente un tempo simile a scansionare l'array te lo trasformi in un heap. Perché questo è utile? Perché adesso possiamo introdurre un nuovo algoritmo di ordinamento. Abbiamo visto di fatto solo il merge sort, il quick sort no, però vi ho detto che esiste. Conosciamo però il bub sort, l'insertion sort e il selection sort. Ecco, ve lo ricordate il selection sort? Il selection sort ordinava estraendo iterativamente l'elemento minimo. Lo metteva nell'ultima posizione dell'array, quindi il minimo di tutto l'array è il minimo. Il minimo di quello che resta è il secondo minimo, quindi il secondo elemento, il terzo e così via, alla fine si ritrovava l'array ordinato. Però il selection sort ha una complessità, l'abbiamo visto nel codice n quadro. invece questo algoritmo, che di fatto è un selection sort, ma è un selection sort che sfrutta per selezionare il minimo o il massimo a seconda di dove vogliamo mettere poi l'elemento che stiamo estraendo. perché in questo momento stiamo mettendo il massimo in coda, quindi forse qui ci vorrebbe il minimo, dobbiamo starre il minimo, però lo mettiamo in coda, ok, perché lo mettiamo in coda e poi mano a mano lo decrementiamo, ok. Quindi, vabbè, si poteva fare sia con un minip mettendo in testa di volta in volta l'elemento oppure così mettendolo in coda. Comunque, il discorso è innanzitutto ci serve un ip, quindi prima cosa mi dai un array da ordinare lo ipfizzo, ipfy, questo ci vuole odn. Poi, adesso che so che è un ip, cosa faccio? Estraggo ripetutamente il massimo dall'ip. L'estrazione del massimo, il massimo per essere estratto ha bisogno probabilmente di un di un muovi basso, perché l'estrazione si fa scambiandolo con la coda e quindi poi si fa un muovi basso. Quindi log n. Per n volte estraggo il massimo, quindi n log n, odn più odn log n fa odn logaritmo base di odn. Quindi, penso sia di tutti d'accordo sul fatto che questo ha una complessità odn più n volte, quindi ogni volta si decrementa l'ip size, quindi per n volte, l'estrazione del massimo, quindi log n. Quindi il costo di questo algoritmo è sicuramente odn log n. Ma perché ordina? Vediamolo con un esempio. Allora, io ho un array che già ho epifizzato, quindi questo è già il risultato del leap, ce ne accorgiamo perché la radice sta in testa e l'ultima foglia in basso a destra sta in coda, quindi questo è già dopo aver fatto l'ipify. Ora, estraiamo il massimo, e estrarre il massimo significa che il massimo viene scambiato con l'ultimo elemento della coda, quindi 37 viene messo al posto di 22, esattamente qui, e 22 viene fatto scendere se necessario, sì, rimesso a posto di 31, e poi basta perché non è necessario farlo scendere. Quindi la nuova radice sarà 31, e in effetti questo è il risultato. Ora, che è successo? Dopo la prima iterazione abbiamo che il massimo è stato spostato alla fine del nostro hip, quindi nell'ultimo elemento in basso a destra. Adesso però abbiamo fatto hip size meno meno. Significa che il nostro vector, è vero che qui c'è adesso un elemento, ma è come se non lo vedesse più, adesso il nostro vettore è questo. Quindi prendiamo il massimo, lo mettiamo a posto dell'ultima foglia in basso a destra, quindi lo mettiamo qui, la foglia a destra la facciamo scendere, quindi ci va, deve andare a destra perché l'elemento è più grande, si scambia con a destra, e quindi 25 diventerà la nuova radice. e allora andando avanti, andando avanti, andando avanti, ogni volta che prendiamo il massimo e lo mettiamo alla fine di quello che è attualmente lì, lo stiamo praticamente facendo un ordinamento al contrario, dal più grande al più piccolo. Alla fine rimarrà un solo elemento che sarà l'ultimo dei massimi, che per definizione è il minimo. Questo ordina e badate che ha una proprietà migliore del Mergesort perché ordina in loco. Che significa in loco? Significa che mentre il Mergesort divide e copia, c'è una fase in cui il Mergesort copia gli elementi in un array ausiliario selezionandoli da due array ordinati, quindi prende di volta in volta quello di testa e lo mette nel nuovo array. Però nel far questo il Mergesort non si chiede per esempio se ci sono se vi ricordate un po' il Mergesort a un certo punto ci sono due sotto insiemi ordinati e bisogna trovare e fare la fusione ordinata dei due sotto insiemi ordinati. Cosa fa il Mergesort? Beh, si chiede la testa del primo è minore della testa del secondo se è così lo mette nella nuovo insieme ordinato. Ma se sono uguali se la testa del primo corrisponde alla testa del secondo significa che nell'array originario c'erano due elementi uguali e vabbè può succedere. Ma cosa fa il Mergesort? Dipende quello che avete scritto nel codice se dalla precedenza alla prima sottosequenza sarà il primo elemento della prima sottosequenza ad andare nella sequenza finale e l'altro che sta nell'altra sequenza anche se è uguale gli andrà dopo. Cosa sto dicendo ragazzi? che nel Mergesort si perde l'ordine originale degli elementi nell'array uguali cioè se nell'array c'erano elementi disordinati però comunque due elementi uguali ce n'era uno che veniva prima e uno che veniva dopo nel Mergesort questo prima e dopo si perde possibilmente i due elementi vengono scambiati quindi il Lipsort si dice che oltre a essere in loco perché non ha non ha loca struttura ausiliare un array avevo e un array continua ad avere in tutte le iterazioni ha anche una proprietà che qui non è specificata che si chiama stabilità che significa stabilità significa che se due elementi due o più elementi duplicati erano in un certo ordine nell'array iniziale nell'array finale continueranno a essere secondo quell'ordine questa è un'altra proprietà che ha il nostro Lipsort però comunque è una cosa che vi ho detto a margine non l'ha nemmeno ben giustificata la cosa più importante però è che sia un ordinamento in loco ovvero che non alloca strutture dati ausiliarie quindi se siamo in una lavatrice dove per esempio l'allocazione di memoria costa molto l'Ipsort potrebbe essere molto più efficiente del Mergesoft nonostante magari sul nostro calcolatore non sia quello il caso ok vabbè questa è stata una parentesi abbiamo fatto un algoritmo di ordinamento ma il vero motivo per cui introduciamo l'IP non è solo fare l'Ipsort ma è per risolvere il problema delle code con priorità cioè degli elementi delle strutture dati in cui ad ogni elemento è associata una chiave un po' come negli alberi binari ma lo scopo qui non è la ricerca ma è l'estrazione ovvero la ricerca anche di un elemento specifico che è l'elemento a massima priorità ora che questa massima priorità corrisponda all'elemento più piccolo o l'elemento più grande dipende per esempio che ne so il tempo di attesa se il tempo di attesa è la nostra priorità allora sarà un maxip quindi più è grande il tempo di attesa prima dovrò estrarlo dal nostro accordato in priorità ma non è detto che sia questo potrebbe essere una distanza come del resto sarà nel caso di Dijkstra in quel caso più piccolo ha maggiore priorità quindi sarà un minip quindi a seconda che è un min a seconda che è un max abbiamo capito che riusciamo a fare il nostro hit quindi la nostra coda con priorità avrà un metodo importantissimo che si chiamerà find min o delete min se è un minip se è una coda con priorità minima o find max delete max se è una coda con la priorità massima poi avrà un elemento di operazione di inserimento di eliminazione di fusione perché a volte è necessario fondere due code con priorità succede nei sistemi operativi perché ci sono più code mantenute contemporaneamente e poi ci sono le modifiche di priorità cioè è possibile che durante l'esecuzione per esempio di Dijkstra lo vedremo ci sono delle modifiche quindi un nodo aumenta la sua priorità o diminuisce la sua priorità quindi un increase key un decrease key ok ora d'ora in poi seguiremo la convenzione di minip quindi perché lo facciamo perché in Dijkstra è così che funziona quindi per noi più piccolo significa maggiore priorità quindi decrease key significa di fatto aumentare la priorità perché più piccolo è maggiore ora possiamo sicuramente e non voglio perderci tempo implementare una coda con priorità con gli strumenti di fondamenti di informatica utilizzare array non ordinati utilizzare array ordinati liste collegate non ordinati o liste ordinate ma vi anticipo che mettendo in una tabella i costi di tutte le operazioni della coda con priorità secondo le quattro strutture che conoscevate prima di questo corso ci saranno sicuramente dei casi almeno un caso in cui la complessità è odn e non va bene cioè noi non vogliamo che per cancellare il minimo impieghiamo un tempo lineare rispetto al numero degli elementi non è questo lo scopo della coda con priorità che deve essere veloce e rapida nel rispondere se invece utilizziamo gli ip binari beh per cercare la radice e od1 sta lì e la radice l'elemento minimo scusate l'inserimento abbiamo visto si fa in un logo del logo dn l'eliminazione beh si fa come l'estrazione di nuovo si fa uno scambio con la foglia in basso a destra e poi si fa muovi questo è un min quindi si fa muovi in basso a destra ci saranno gli elementi più grandi quindi lo faccio uno scambio è un minip e probabilmente deve scendere quindi di nuovo muovi basso ma sempre log n dell'eliminazione è log n perché bisogna estrarre appunto il minimo in criski perché in criski andiamo a modificare la chiave quindi lo stiamo diventando la chiave sta diventando più grande questo è un minip quindi potrebbe essere necessario spingerla verso il basso e quindi muovi basso log 2dn decriski potrebbe essere necessario spostarla verso l'alto quindi muovi alto e quello è log n il merge beh il merge si fa come nel caso di pfy ho un ip a sinistra ho un ip a destra li unisco come in ipfy e odn quella è la complessità per ipizzare un un ip un array scusate quindi la nostra tabela ci dice che od1 è il costo per trovare il minimo log 2dn tutti gli altri e odn è il costo del merge bene già grazie a questo vedremo domani da extra passerà da odm più n no scusate da odm per n che è terribile è ben non forte a odm più n tra parentesi per log n ora essendo n il numero di nodi che ne so miliardi ma il logaritmo di miliardi è 6 7 8 9 10 pochi abbiamo praticamente una complessità che è un numero piccolo dell'ordine della decina che moltiplica m più n quindi è una sorta di topologico m più n con un moltiplicatore pertanto mi pare che sia molto migliorata la complessità quindi solo avendo introdotto gli ip vedremo però domani come usarli non è che questo vi risolve già il problema dobbiamo spiegare come usarli dentro da extra però adesso sappiamo che gli ip binari hanno tutte complessità praticamente logaritmo numero cdn tranne il merge vabbè non lo useremo e ovviamente il find mean perché già sta nella radice quindi i nostri ip sono la risposta al problema della coda con priorità in generale dell'estrazione del minimo e del massimo usando strutture di tipo albero sono alberi che non utilizzano l'ordinamento per la ricerca ma utilizzano l'ordinamento a ip si dice cioè appunto per l'estrazione del minimo e del massimo ok nei minuti che rimangono cerco di spiegarvi un ulteriore miglioramento degli ip che però non ci servirà più di tanto in Dijkstra ormai il miglioramento grosso l'abbiamo fatto però sono delle strutture comunque degli ip un po' più complicati che hanno una migliore comportamento una migliore complessità nella tabella finale di questa parte se riusciremo mai a finirla altrimenti non la facciamo poi vediamo se rimane lo spazio nel corso avremo il nostro ip binario che è sempre quello che abbiamo visto e gli ip diciamo un po' più complicati dell'ip binario che tentano di renderlo più veloce avranno delle complessità talvolta o di uno in alcuni di questi casi quindi saranno migliori giocoforza del nostro ip binario per esempio per l'operazione di inserimento o di uno addirittura il merge passa da od da odn o di log n fino o di uno e in particolare vedremo che Dijkstra utilizza moltissimo l'operazione decrees key immaginate un po' perché decrees key significa aver trovato una distanza migliore cioè più piccola quindi decrees key e infatti proprio questo farà Dijkstra manterrà in una coda con priorità gli archi e quando troverà un arco migliore farà un decrees key quindi è importante che il decrees key sia il più piccolo possibile in realtà soltanto gli ip di Fibonacci che sono una cosa molto complessa da spiegare pertanto io qui solo in una slide cerco di darvi un accenno ma sono una struttura che se si vuole spingere Dijkstra proprio al minimo possibile della complessità ovvero la complessità ottima cioè quella che proprio la teta che meno di quello non si può ottenere si devono usare gli ip di Fibonacci però già usando gli ip binari si ottiene un Dijkstra che si comporta molto molto bene e in effetti non a caso le strutture di coda con priorità presenti nei framework come nel C++ anche in Java in Python utilizzano al loro interno molto spesso gli ip binari non quelli più complicati che ci sono in queste altre slide quindi in realtà l'argomento più importante noi l'abbiamo fatto ora rimangono sette minuti la lezione di oggi voleva essere di un po' più corta perché devo andare in seduta e devo anche fare delle carte quindi io direi per non complicarvi la vita non complicarci la vita abbiamo iniziato in tempo questa parte la rimandiamo se rimarrà spazio alla fine del corso era importante però per noi oggi parlare di ip binari perché sono quelli che ci consentono scusate in questa tabella sono quelli che ci consentono di capire innanzitutto come sono implementate le code con priorità nei vari linguaggi nei vari framework e ci consentono soprattutto di avere dei costi logaritmici per tutte le operazioni che ci interessano sulle code con priorità che utilizzeremo appunto nell'algoritmo di Dijkstra ok quindi termino adesso la lezione e lascio lo spazio per domande quindi la lezione termina qui